Arriva l'addio da parte di Ellen DeGeneres, dunque annuncia l'addio alle scene. Dal coming out dell'anno 1997, allo special su Netflix, Ellen, che per ben due volte ha condotto la cerimonia degli Oscar, la donna di 66 anni d'età, ha debuttato negli anni 80 in qualità di stand-up comedian, ispirandosi ai grandi maestri del cinema come il grande Steve Martin, come l'indimenticabile e straordinario Woody Allen. Eppure però, dopo tanti anni di onorata carriera, la bella e meravigliosa Ellen DeGeneres dice io mi ritiro, addio alle scene. Dopo questa esperienza che andrò ad avere, chiudo, va bene, e quindi ci sarà la cancellazione del tour. Nel 97, vi ricordo, in questo anno, 1997, ci fu il coming out da parte sua, infatti diciamo che appartiene alla comunità LGBT+, quindi è una persona lesbica, va bene? Tornerebbe dunque su Netflix con un nuovo special, con una nuova commedia speciale per questo anno e poi il ritiro dalle scene. Grazie a tutti, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate, cosa ne pensate, ditemelo. Trabbi dei commenti.